I mastodontici carri allegorici con altezza fino a 14 metri e sempre più tecnologici sono pronti, così come i numerosi gruppi mascherati. E voi? Siete pronti ad indossare il costume più bello che avete o almeno una mascherina? Beh, al resto ci penserà il carnevale, lo storico carnevale di Massafra, edizione numero 71. Questa è la giornata della prima sfilata, si partirà alle 17 nei pressi dello stadio, il club si raggiungerà in Corso Roma, quasi un chilometro di grande festa. Alle 20 la tradizionale diretta sul canale 14 di Antenna Sud, fino a tarda sera quando la piazza centrale di Massafra si trasformerà in una vera e propria discoteca. Special guest il noto imitatore Vincenzo De Lucia, reduce da tanti successi in televisione. E' signore della tv, che poi in realtà è soltanto una persona che ha fatto uno spettacolo bellissimo, dove interpretava Mara Venier, interpretava Maria De Filippi, interpretava la mitica d'Urso, nella Vannoni. Io e il vice sindaco Domenico ci siamo guardati un attimo, abbiamo capito. Con il tema di quest'anno Wonder Woman, questo personaggio deve venire al nostro carnevale. Perché è questo il tema che avete scelto? Affrontare il tema della presenza femminile importante nella storia, nella scienza, nella cultura, nell'arte, nella letteratura. Il carnevale diventa occasione di cultura. Una settimana per rilassarsi un attimo, per ritagliarsi un po' una parentesi di allegria, di goliardia, di divertimento sano, in sicurezza, perché anche questo aspetto è molto attenzionato. La cosa più bella per i carristi è proprio quello, lo stare insieme, creare queste opere. Quindi man mano che poi si cresce, prima passano i ragazzi a fare i gruppi, i carri in miniatura, diciamo, e successivamente poi diventano loro carristi stessi. Quando si comincia? Si comincia almeno tre, quattro mesi prima. Questo è un carnevale del popolo, a differenza di altri. Sì, assolutamente. Il nostro carnevale è un carnevale tradizionalmente libero, aperto. Non ci sono transenne. Chiunque arriva può partecipare, immergendosi nella folla.